Nemmeno una parola di fronte alla GIP Giulia Soldini e al PM Marco Dioni. Javad Disham questa mattina si è infatti avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere Aretino di San Benedetto. Il 38enne è assistito dall'avvocato Maria Fiorella Bennati. Il duplice omicidio si è consumato nella notte tra mercoledì e giovedì nell'appartamento di via Benedetto Varchi con un coltello da cucina. L'uomo ha assassinato Sara Ruschi, 35enne, madre dei suoi figli che hanno assistito alla scena e la suocera Brunetta Ridolfi di 76 anni. Nelle ultime settimane ci sarebbe stato un escalation di episodi violenti che avrebbe preoccupato la giovane mamma al punto che avrebbe cercato un avvocato per allontanarlo da casa. Anche la madre di Sara era preoccupata come la stessa 35enne raccontava ad un amico online. Ultimamente infatti passava sempre più notti a casa della figlia, forse anche per proteggerla. Attesa adesso la decisione del GIP sulla convalida del fermo e sulla misura cautelare decisione che appare comunque scontata. Il reato del quale è accusato il 38enne è punibile con l'ergassolo un duplice omicidio aggravato dal rapporto di parentela, delitto per il quale non è consentito accedere al rito abbreviato che riduce l'entità della pena. A dare l'allarme quella drammatica notte era stato il figlio 16enne della coppia. Assieme alla sorellina di due anni sono stati affidati al nonno Enzo Ruschi il provvedimento della procura minorile di Firenze, ma la situazione resta provvisoria in attesa di una sistemazione definitiva alla quale ha intenzione di contribuire anche il comune di Arezzo.